Oggi vogliamo condividere con voi un evento particolarmente toccante che ha colpito Alba Parietti e il suo amato cane, Wengie. Su Instagram, Alba ha raccontato di un'aggressione avvenuta di recente, durante la quale ha cercato di proteggere Wengie da un altro cane che lo stava attaccando brutalmente. Nell'intervento, Alba è stata morsa e lo shock dell'evento l'ha fatta svenire due volte. Con grande emozione, Alba ha descritto come Wengie abbia subito ferite gravi, tra cui diverse fratture. Il dolore di vedere il proprio cane coperto di sangue e quasi irriconoscibile è stato devastante per lei. Da questa esperienza, ha scaturito un appello accorato affinché i proprietari di cani si assumano la responsabilità di tenere i propri animali sempre al guinzaglio e, nel caso di cani con tendenze aggressive, di usare la museruola quando si trovano in pubblico. Alba ha anche evidenziato quanto sia fondamentale mantenere alta l'attenzione anche nei luoghi che potrebbero sembrare sicuri o isolati, sottolineando che i cani dovrebbero essere liberi di correre solo in spazi sicuri come le abitazioni private o i giardini recintati. Questo incidente ha profondamente cambiato la sua percezione della sicurezza durante le semplici passeggiate con il suo cane, alimentando un nuovo timore verso gli altri cani, un sentimento che Alba non aveva mai provato prima.